Quindi, ricordo, ho deciso che in Europa e negli Stati Uniti sono due continenti grandi per due vaccini a tutto il mondo, due due vaccini per noi e anche per gli altri, questo è molto importante che vado a finire di notare, quindi, e anche questo è il motivo della collaborazione che si deve fare tra noi e la Commissione, perché soltanto tra un'altra situazione che riusciamo a comporre tutto il PASA che è molto complesso, molto complicato per questa questione di realizzazione.